Allora, stai cucendo ancora foglie di fico, sperando di essere coperto? Buongiorno a tutti! Come sapete, durante la settimana cerco di cogliere delle occasioni per trovare degli spunti da poi condividere con voi al venerdì. Questa settimana abbiamo tenuto, genedio, la nostra nipote di 20 mesi e l'altro giorno era silenziosa, si era infilata sotto il tavolo e aveva trovato un cioccolatino e cominciava a mangiarselo. E quando l'ho trovata aveva questa faccia persa, colpevole al 100%. Dentro morivo da ridere, ovviamente, però allo stesso tempo mi faceva riflettere su come, sin da quando siamo così piccoli, ci si senta in colpa di certe cose. E la prima tendenza è quella di volerci nascondere, sapendo di aver fatto qualcosa di sbagliato, qualcosa di proibito. E penso che l'immagine che ci venga in mente è quella di Adamo ed Eva, che subito dopo aver commesso il peccato si nascondono, volendo coprire la loro vergogna e sperando che magari nascondendosi le conseguenze evaniscano. E come la copertura delle foglie di fico era ridicola, Oggi pensiamo che nascondendo il nostro malfatto, il nostro peccato, si possa evitare la conseguenza di quelli che vedono oltre il nostro nascondere. E dicono vedono nel plurale perché ci sono due entità, due persone, due esseri che vedono queste cose. Una è Dio e l'altra è Satana. E queste due entità agiscono in modo completamente diverso. Dio attraverso il suo Spirito Santo, con persuasione, cerca di portarci al pentimento per ottenere il perdono di quello che si è fatto. E lo fa perché? Perché vuole restaurare la relazione con Lui. L'altro invece, Satana, attraverso l'accusa, ci porta alla condanna. Perché? Perché Lui è interessato alla nostra distruzione. C'è una scrittura bellissima in Zaccaria, ve la voglio leggere, qualcosa che non si vede tutti i giorni, Zaccaria 3, e dice questo. Il profeta Zaccaria parla e parla a riguardo di Giosuè e dice Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, questa è una visione, che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. L'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, o Satana, sì l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi. Non è forse costui, riferendosi a Giosuè, un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vesti sudice e stava ritto davanti all'angelo. Allora, il bello di questa immagine che cos'è? Che praticamente Dio sta dicendo a Satana, state zitto, so esattamente chi sia lui. Satana cosa fa? Vede le vesti sudice di Giosuè e dice Questo è così zozzo e sta davanti a te, non dovrebbe stare. L'accusatore. E Dio dice no, questo è un tizzone che ho tolto dal fuoco. È un carbone che piuttosto che ridursi al nulla, il fuoco che lo riduce a ceneri, lo prendo prima che venga distrutto. E nel prenderlo sì, le mie mani si inzozzeranno. Perché? Perché è carbone. Però lo voglio trarre dal fuoco. Non è perfetto, ma io lo renderò perfetto. Infatti andando avanti in quella scrittura parla di nuove vesti pulite che gli verranno messe. Sì che anche qui vediamo da una parte colui che vuole redimerci e dall'altra invece l'accusatore che vuole solamente la nostra distruzione. Però c'è un'altra scrittura interessante, sempre parlando di nascondere il nostro peccato, è quella in Proverbi 28,13. Dice, chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Allora qua uno dovrebbe fermarsi e dire, ma perché? Perché vogliamo jeopardize, vogliamo compromettere la misericordia o la prosperità cercando di nascondere il nostro malfatto? Che tra l'altro ci fa sentire ancora più miserabili perché il peso di quello che abbiamo fatto è ancora sulle nostre spalle. E forse perché alcuni di noi non conoscono la proprietà distruttiva del peccato che promette tanto, però rende molto poco. Altri magari hanno paura delle ripercussioni, della vergogna di ammettere un qualcosa che si è fatto. Altri magari presi dall'orgoglio hanno difficoltà di ammettere il peccato per quello che è, cioè peccato. Ed alcuni hanno l'abitudine di voler colpevolizzare gli altri per le loro brutte decisioni. Oggigiorno per non sentirci in colpa cerchiamo sempre di più la giustificazione. Magari ci appoggiamo al discorso della maggioranza delle persone che fa certe cose, come se lo rendesse valido o giustificato. Ma quando ci si inganna sotto queste pretese si corrode sempre di più la nostra integrità. C'è un'altra scrittura, un'ultima scrittura che voglio leggere in Primo Giovanni, Primo Giovanni capitolo 1, versetto 8, dice Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e impurificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Allora, da una parte, se prendiamo la nostra responsabilità, lui è pronto a perdonarci, a ristabilire questa relazione che si è rotta. Se invece rimaniamo imperiti, rimaniamo, come dicevo prima, arroganti nel nostro modo di fare, con orgoglio, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. E questa è la peggior cosa che si possa fare, cercare di nascondere il nostro peccato. Perché? Perché il nemico sarà sempre lì ad accusarti, a puntare il dito. E a lungo andare questo porta anche delle trasformazioni a livello psicologico che modificano la nostra personalità, perché ti rubano di quella pace interiore che Dio ti ha promesso. E se lo contrastiamo con quello che ha fatto il re Davide, dopo aver commesso adulterio, aver commesso omicidio, lui si prende cura delle sue problematiche, lui si prende piena responsabilità dei suoi peccati. Per quello che lui dice nel Salmo 51, le mie iniquità, le mie colpe, il mio peccato, purificami, lavami, crea in me un cuore nuovo, librami. Allora non si giustifica davanti a Dio, prende piena responsabilità, si pente di quello che ha fatto e riceve il perdono. E questa è l'unica cosa sana da farsi, non nascondersi, ma confessarsi davanti a lui, ricevendo la sua copertura, che è molto meglio della nostra copertura, perché la copertura di Dio è perfetta. Quando noi cerchiamo di farlo è come avere della ruggine in una macchina, darci due pennellate sopra, pensando che sia risolto il problema. Assolutamente no, perché un giorno rispunterà fuori di nuovo. Allora stai cucendo ancora foglie di fico, sperando di essere coperto? Renditi conto di quanto sia ridicolo e ricevi la giusta copertura che solo Dio ti può dare. Come sempre vi auguro un buon weekend e condividete questi messaggi se li trovate edificanti e vi incoraggio a lasciare messaggi sempre direttamente su YouTube. Ci vediamo venerdì prossimo, o Dio volendo. Ciao!